benvenuti a questo secondo incontro intervista io direi chiacchierata con Gaspare Mutolo non c'è bisogno che ve lo presenti tutti sapete chi è Gaspare Mutolo da eh ex uomo d'onore di Cosa Nostra a uomo diverso quindi a uomo nuovo oggi lui ci gli chiederemo e ci parlerà un pochino di quella che è stata la sua vita in Cosa Nostra e di quelli che sono ovviamente gli eventi più recenti che hanno un pochino eh riguardato quest'ultimo periodo. Innanzitutto Gaspare grazie di aver accettato il nostro invito e benvenuto. Buonasera a tutti e grazie a voi che vi avete invitato. Gaspare la prima cosa che le voglio chiedere è è un po' è un po' scontata. Siamo a pochi giorni dalla morte di Matteo Messina Denaro il super latitante il grande capo di l'ultimo grande capo così almeno è stato definito di Cosa Nostra. Tutti noi ci siamo fatti un'idea di quello che potrà essere o meno il futuro o tanto si è chiacchierato. Adesso noi vogliamo sentire la sua idea che è quella tecnicamente più eh più sicuramente più logica e sicuramente è l'idea più vista vedendo Cosa Nostra più dal di dentro. Allora secondo lei cosa e come cambia Cosa Nostra oggi e soprattutto è veramente finita la mafia? Guardi come cambia? Già è cambiata da tanti anni la mafia quindi non ne io ho detto sempre che quel ruolo che ci avevano dato a Messina Denaro per me era un ruolo superlativo per me insomma non poteva essere per come tanti dicono il capo di Cosa Nostra. era un mafioso importante un mafioso che si era macchiato di quegli orrendi crimini che la mafia eh in quel periodo ha cambiato completamente pelle perché insomma è il periodo in cui la mafia cambia completamente fa le stragi e uccide donne uccide bambini cioè non si capisce più niente quindi un un capo mafia e io credo che qualche capo mafia io l'ho conosciuto bene ma ne ho conosciuto tre come Etano Badalamente come come Michele Creco come Salvatore Rina tutti un po' diversi però insomma cioè non era il ruolo che aveva il Messina Denaro non era un ruolo di un capo abbiamo un uno strascico molto delicato in un momento in cui la mafia è scomparsa apparentemente e ora insomma ci ci sarà sicuramente qualcuno che che ha preso il posto di Rina ma non sicuramente Messina Denaro ma quindi la mafia secondo lei non è non finisce con Matteo Messina Denaro continua ma la mafia non è incominciato e nemmeno finisce con Messina Denaro la mafia è che esiste da tanti secoli va bene e ha superato diverse difficoltà però diciamo la mafia è è nella mentalità diciamo del siciliano del del cioè la Sicilia è probabilmente io ho avuto modo ultimamente di scendere in Sicilia e e mi rendo conto che è quella mentalità che che c'era una volta magari sono diminutiti va bene sono di meno ma la meglio parte dei dei siciliani hanno quella mentalità brutta del mafioso magari non lo fanno per male non si rendono conto però diciamo la mafia ancora c'è esiste va bene Gaspare sempre questo stiamo parlando a modi chiacchierata diciamo da bar ma secondo lei Baiardo che ruolo ha avuto in questa vicenda se un ruolo ha avuto ma secondo me il ruolo che ha avuto Baiardo è stato da portavoce perché Baiardo come si sa pubblicamente che l'ha specificato quel grande giornalista che era Giletti va bene aveva dei dei parenti che sono parenti di dei Graviano e quindi e secondo me il ruolo che ha fatto Baiardo e Messina Denaro era quello di di concordare quasi perché la trattativa c'è stata ci sarà e cammina sempre era per arrivare secondo me in un punto buono che Baiardo già aveva preannunciato che Messina Denaro si faceva prendere ma la speranza di Messina Denaro era che facendosi arrestare diciamo i giornalisti che a meglio fatti sono pilotati diciamo dal governo avrebbero detto la mafia è finita la mafia non c'è più Gaspare mi scusi quale si assume sempre la responsabilità di quello che dice ma è logico e ma sono maggiorenne io non è che io lo devo dire no 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 io mi assumo logico che mi assumo la responsabilità ma logicamente la ma cioè quella famosa che i giudici hanno hanno soprannominato a trattativa va bene è arrivata quasi alla conclusione va bene non lo Stato ha detto che lo Stato può trattare con la mafia quindi che non ci sono colpevoli va bene insomma io non voglio entrare in queste cose ma io comprendo quello il lavoro che aveva fatto Messina Denaro con i graviani va bene il gioco era quello che il Messina Denaro si faceva prendere perché sapeva che aveva ultimi mesi di vita e poteva dare un contributo diciamo nella storia di dire va bene Messina Denaro si è sacrificato la mafia è finita usciamo liberiamo a tutti i detenuti va bene perché ci sono ancora detenuti diciamo importanti che che fanno parte di quella trattativa di quel gioco che ci fu in quegli anni del del novantadue e novantatré va bene non non dimentichiamolo quello che è successo nel novantadue e novantatré perché sarebbe veramente un una cosa sconcertabile per quelle persone che si sono sacrificati va bene ma io non le chiedo e ripeto questa poi è una curiosità mia in questo momento ma quindi Gilecchi si è fatto ha fatto sì che cioè era consapevole che Baiardo era un portavoce perché farsi far parlare un portavoce di di un mafio di mafiosi questa è la domanda che mi faccio cioè perché farlo parlare almeno pubblicamente ma perché Gilecchi faceva quei programmi di cronica va bene e dare una notizia così sensenzionale va bene così importante che ma noi teniamo presente che Messina Denaro è stato quasi trent'anni latitante esatto e ora ci sono le prove ma si sapeva sempre insomma noi che lo sappiamo che i nostri latitanti io l'ho specificato non si allontanano mai va bene Messina Denaro è è stato là dove lui è cresciuto dove lui era conosciuto quindi c'erano quelle convivenze che noi sappiamo a volte non li vogliamo accettare va bene di quella che di quella convivenza che c'è stato sempre e che ci sarà tra la mafia e pezzi dello Stato perché non tutti quelli che sono dello Stato sono diciamo persone corrotti ma ma anche che sono sono coinvolti va bene perché la politica purtroppo ha bisogno di questi mafiosi di queste persone che controllano le il numero dei voti però prima il mafioso diciamo fa questa cortesia diciamo al politico e dopo il politico diventa in qualche modo scavo diciamo succope della malavita va bene che deve deve ricambiare in qualche modo quello che fa infatti non per nulla Falcone aveva studiato la sua gestione esterna la sua gestione esterna che cos'è io mafioso tu non sei mafioso facciamo una cosa assieme ecco che viene la sua gestione esterna che ora i politici in qualche modo la vogliono togliere perché i ci sono ancora oggi magistrati diciamo importanti coraggiosi come di Matteo Gratteri insomma diversi va bene e però vedi vengono vesti sempre sotto accusa perché sono leggeri nelle nelle fare delle indagini di fare degli arresti però io sono convinto al cento per cento che il magistrato se non è convinto al centodice per cento non indaga un politico va bene no dica al cento perché no il magistrato se non ha la certezza non il dubbio la certezza di 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 mentere sotto accusa un politico non lo mente perché sa che dopo gli avvocati trovano sempre il modo di fare qualche legge di fare qualche cosa e fanno passare tanti anni e dopo le cose finiscono nel nulla e la colpa che l'ha il magistrato perché ha rovinato al politico ma non è così ma Gasper mi mi perdoni ma quindi i graviano dovrebbero dovrebbero essere tra virgolette i fratelli graviano dovrebbero essere quelli che ripeto tra virgolette hanno la l'idea la pretesa di sostituire quindi il il ruolo di messina denaro secondo me il ruolo che hanno avuto i graviani è stato sempre più importante di quello che ha avuto di che messina denaro per me anche se sono in galera quelli che hanno diretto sempre le file sono Bagarella che io conosco personalmente eh e graviani ma vestire da denaro per il suo comportamento non era diciamo un comportamento di un capo di un capo mafia non esiste proprio era uno era uno dei uno dei mafiosi importanti che abitava in una zona dopo la mafia non è che comanda quanto Palermo o quanto eh Caltanessetto o quanto ha Agrigento ma la comanda più la massoneria e non la mafia quindi però diciamo ci sono personaggi molto molto più importante politicamente dei mafiosi che hanno più potere più più comando quindi se messina denaro ha potuto stare trent'anni latitante nel luogo in cui era cresciuto ma grazie insomma a a quelli che lo proteggevano perché dice che messina denaro non era un capo qual era la la cosa che qual è la perché fa questa considerazione comunque dei mafiosi si può dire tutto va bene tutte le cose più brutte che uno può dire al mafioso oggigiorno li può dire perché si sono macchiati di delitti orrendi va bene di donne bambini o insomma uomini dello stato uomini eccetera però il il mafioso ave diciamo un codice comportamentale se sente parlare a Rina quando c'ha quei confronti con Buscetta e si parla di moralità cioè Rina faceva un discosto di moralità che è quella è quella moralità che deve avere il mafioso Buscetta parlava di un'altra moralità insomma che il mafioso aveva perso quella moralità della coscienza però come comportamento cioè non esiste che un mafioso importante ha una figlia e non se la legittima non è non non esiste che ci sono tante donne che fa il di i Don Giovanni ad essere assonista cioè non è un comportamento di un mafioso importante è un comportamento di un mafioso che c'ha i soldi che se retrega come Buscetta Buscetta era un uomo va bene secondo me come messina denaro non è che ci interessava a essere un capo anche se aveva il carisma va bene però a quello ci interessava la dolce vita ci che avevano le donne quindi eh tutte le altre cose erano al suo discapito certo il giornale eh hanno portato sempre messina denaro messina denaro messina denaro e va bene messina denaro però io se devo dare un giudizio da mafioso e lei che si ricorda quando hanno arrestato allo piccolo Salvatore che noi possiamo ecco parlare di un mafioso quello aveva un comportamento mafioso tanto che camminava con con i codici in mano con il comportamento che deve avere un mafioso e la cosa più delicata è quella della moralità ma mi perdoni Gasper ma la vecchia mafia i vecchi mafiosi gli inserillo badalamente è una domanda che le faccio non avevano diciamo relazioni extraconiugali nascosti occulti occulti ma apparentemente erano quelli che predicavano di nonne di nonne di non ti dirà a famiglia di non ti dirà moglie perché vede la vera forza della mafia stava e sta ancora nelle donne perché guai se le donne per esempio io le porto un paragone salto da una cosa e un'altra la vero la vero la vero persona che ha lottato per la prima volta la mafia almeno quello che ricordo io è stata Sarafina Battaglia se lei per esempio non so se ha letto perché Sarafina Battaglia ha detto un una frase che è che è la realtà ha detto se tutte le donne di mafia che hanno avuto ucciso un figlio un marito oppure vorrebbero parlare della mafiosi sarebbero pezzi di piedi va bene insomma questa è stata la vero la da di una donna di mafia perché io a questa signora io la conoscevo perché io sono cresciuto in via Montesanto a Palermo che è a 300 metri dell'avia Torino di dove questa Sarafina Battaglia con il marito avevano una torrifazione e quindi e dopo il marito spesso veniva in via Montesanto a parlare con Viterno Salvatore ed altri mafiosi però diciamo la mafia ancora oggi diciamo in qualche modo esiste però ci sono i codici comportamentali che non ci può essere un mafioso che fa il Bon Giovanni ed è capo mafia no non esiste in Sirillo vero Stefano Bontati ed altri e logicamente avevano le donne ma predicavano e non si facciavano scoprire infatti li hanno uccisi Rina li ha fatti uccidere quando uscivano dalle loro amante va bene quindi appunto per denigrarli insomma certo le voglio chiedere una cosa Gaspare le donne nella nell'andrangheta in Calabria le donne hanno un ruolo importantissimo proprio come messaggere dei dei mariti in carcere di messaggi mandati dai mariti in carcere nella mafia siciliana dentro Cosa Nostra le donne hanno un ruolo operativo guardi operativi come sono i i da paretane ed altri personaggi no però che hanno e sanno tenere i segreti meglio di queste persone sì però io non ho conosciuto mai una donna operativa nel senso che dava comandi che no 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 che mantene sapeva mantenere i segreti che vedeva del marito o degli amici questo sì ma l'uomo il mafioso per per suo orgoglio per sua abitudine cioè la donna la mantiene al di fuori di queste responsabilità anche se la donna che per amore si assume qualsiasi responsabilità ovviamente però le donne di Cosa Nostra sanno quello che fanno i mariti perché quando tornano a casa penso che sanno intuiscono cosa fanno giusto sì 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 non sanno tutto al cento per cento ma sanno tutto al novantacinque per cento quindi la moglie di Rina al novantacinque per cento sa tutto certo ma è una cosa è una cosa normale insomma e secondo lei queste cose le sanno dopo che sono successe o le sanno prima che succedono no no li sanno no no non li sanno prima sanno sanno il comportamento che hanno posto un immaginare ma la certezza non ce l'hanno diciamo perché non esiste che un mafioso parla direttamente con la moglie ma le donne sono tante furbi capiscono perché quando dopo uno diventa mafioso cioè pratica nella nella sua famiglia diciamo i i mafiosi e gli amici e i parenti di sangue sì la sento la sento eh quindi non sanno tutto al cento per cento prima quando devono fare qualche cosa ma subito dopo subito dopo comprendono che da dove da quale lato viene il male però le donne sono convinte almeno una volta ora non più prima erano convinti che i mariti erano fedeli che i che i mariti erano non tradivano le donne dopo i fatti che è successo che sta dicendo lei di di Stefano Pontatis e Salvatore Incerillo e di qualche altro che le moglie hanno capito che gli uomini sono birricchini va bene per esempio anche io mia moglie per me facciava tutto facciava tutto perché sapeva era convinta che io le ero fedele ma se me che mi capitava qualche scappatella io la facevo non non andava a cercare non non mi mentevo il rischio di di commettere qualche cosa che lo potesse sapere mia moglie però se succedeva qualche cosa non la rifiutavo ecco non è come sono io sono tutti gli uomini caspare lei si definisce un pentito o un collaboratore allora io prima ho fatto il collaboratore io quando parlai con Falcone io volevo collaborare nel senso volevo azzerare diciamo quei misfatti che ormai erano all'ordine del giorno quindi poteva essere paura poteva essere pentimento insomma ma io ero convinto di collaborare infatti quando io parlo con con Falcone io parlo che volevo recidere quel cordone umbilicale che c'era tra il suo fico e Roma tra tra il tribunale di Palermo e Roma lui ha detto eh sì dopo con l'andare del tempo logicamente dopo i fatti che sono successi con anche con Borsellino e piano piano e le persone che ho incontrato diciamo che ho incontrato nel mio cammino personaggi come Salvatore Borsellino come Giorgio Bongiovanni quindi piano piano diciamo mi sono pentito e e piano piano sperava che questo sogno mio che qualcuno mi avrebbe potuto perdonare va bene però questo sogno questo sogno oggi è una realtà perché io quando sono sceso a Palermo il 19 luglio lo sto dicendo perché mi hanno autorizzato di di poterlo dire altrimenti non l'avrei detto diciamo mi hanno perdonato quelle persone che io avevo partecipato all'omicidio diciamo dal padre ed una ragazza che dopo l'ho incontrata appunto da grande sposata con una figlia e qui hanno capito diciamo il mio dramma ma non il mio dramma il mio può essere un pochettino particolare ma il dramma di tutti i collaboratori perché i collaboratori i pentiti così come volgarmente volgarmente si chiamano e cioè hanno un prezzo altissimo pagano la colpa fosse stata perché i primi collaboratori sono stati un pochettino incosciente sempre con quella mentalità da mafiosi da brutti io ricordo per esempio la morte della moglie di di Benedetto Santa Paola è stato ucciso da da un pentito da uno insomma che collaborava con la scusa delle è uscito e andò a uccidere alla moglie di Santa di Santa Paola qualche altro uguale tanti altri hanno ucciso pestoragli comunque però le persone che realmente si sono pentiti e hanno collaborato con quella coscienza per volere cambiare vita va bene quelli sono quelle persone che hanno hanno sacrificato tante perché tante persone hanno perso alcuni pezzi della famiglia le famiglie si sono rotte va bene perché c'era chi 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 era d'accordo con il collaboratore chi no e a volte le moglie non li non la seguiva insomma hanno pagato i i collaboratori un prezzo molto alto e la stampa è stata diciamo ehm aggressiva perché si sono basate soltanto su quelli che uscivano con la scusa che collaboravano e commettevano dei reati però realmente quelli che hanno si sono pentiti dopo la collaborazione e e hanno cambiato vita ma chiaramente io sono uno di quelli fortunate perché ripeto ho incontrato a Giorgio Bongiovanni che ha conosciuto anche mia moglie ed ed eravamo affascinati di 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 questa associazione culturale che c'ha Giorgio Bongiovanni dopo abbiamo conosciuto io personalmente ho conosciuto a Salvatore Borsellino e ho capito la rabbia che c'ha quest'uomo in corpo va bene che vuole ancora oggi giustizia dello Stato perché si sa che ci sono stati diciamo pezzi dello Stato che hanno collaborato diciamo a fare il depistaglio di di Paolo Borsellino quindi sono persone che lottono il male e e ma purtroppo le persone che sono allo Stato sono quasi tutte buone però c'è sempre qualche qualcuno che è in contatto con la mafia e e questi qualcuno insomma tiene sempre questi contatti con con queste organizzazioni che non dovrebbe tenere. Gaspare c'è stato un momento in cui lei ha temuto di essere di essere ucciso dai suoi amici? Guardi questo pericolo ci poteva essere per la mentalità ottusa però io nel mio cuore dicevo questo se la mafia se i mafiosi sono quelli che io conosco ma io non è che ho tradito la mafia io non è che ho fatto del male alla mafia io li ho rinnegato va bene io li ho rinnegato perché non mi vedevo più in quello in quello che erano i miei principi e i principi di tanti altri e quelli che dopo erano i comportamenti della mafia del 1990 ma non c'era completamente paragone guardi io non lo so se a lei che io l'ho detto l'altra volta quando io entro a fare parte della mafia ed entro nel gruppo di Saro Riccobono diciamo noi pensa non c'era la famiglia il capomandamento c'era il gruppo c'era un pugno di persone autorizzate del triunvirato di Lidio di Stefano Bontati e di e di Badalamente che per prendere possesso dovevano uccidere a quei mafiosi che c'erano prima esatto quindi succede questo che si spara pure tra le altre omicidie che si sono commessi a un centro Vincenzo Nicoletti questo Vincenzo Nicoletti era il capo il capio mandamento che c'era diciamo in quella zona dei colli questa persona viene ferita lui e il suo guardaspalle vanno a finire all'ospedale però che era successo qualche tre quattro mesi prima in via divisi a Palermo avevano accoltellato un ceto ciumi che era uno che aveva un albergo questo ferito va all'ospedale e mentre all'ospedale i mafiosi si vestono di dottori e entrano dentro l'ospedale di camici bianchi e uccidono a questa persona quindi questo Vincenzo Nicoletti che questa persona si può vedere che ancora c'ha figli c'ha nipoti c'ha parente insomma è un era un personaggio importante e avendo la stessa preoccupazione dice ora entrano i mafiosi e mi vengono a uccidere si fa portare a casa va bene perché le amicizie non mancano mai quindi ferito stesso e a casa noi attraverso un suo nipote siccome questo aveva due figli che avevano una macchina mi ricordo che era un magliolino e quindi noi non sapevamo se questi sapevano che noi avevamo attentato al padre se questi ci volevano uccidere e eravamo indecisi di ucciderlo o meno però allora quando parlo io nel 73 74 prima di uccidere a una persona si pensava che uno eliminava una vita umana esatto quindi prendiamo la decisione si c'è manda a dire a questo vincenzo nicoletto senti tu sai ormai per avere questo attentato non è che è venuto dell'alto insomma dato questo era un capomandamento dice quindi se tu vuoi salvare a tutta la tua famiglia domani alle 5 domani o dopo domani non mi ricordo ti fai trovare dinanzi al barri di pallavicino nella piazza di pallavigina ancora oggi c'è un barri e che dopo uno va il discorso sicude e questo ci vanno a dire va bene non mi ricordo se è stato l'indomani o dopo due giorni questo vecchietto ancora con la fasciatura nel collo perché era stato ferito si fa vedere dinanzi al barri passiamo con la macchina io un getto michaelizzi un getto riccobono vediamo a questo vecchietto insomma io parlo vecchietto perché io allora avevo trent'anni questo poteva avere settant'anni per me era un vecchietto lo guardiamo quest'uomo che era lì per farsi sparare per salvare i suoi figli va bene noi non abbiamo avuto la forza di sparare abbiamo ingranato la marcia e ce ne siamo andati questo si vede poverino aspetto aspetto ma nessuno ci ha sparato torno a casa si ci manda a dire di non mischiarsi più nelle cose di mafia questo vecchietto è morto nel suo letto quindi io conoscevo questa mafia va bene in questo caso mi scusi gaspare ma in questo caso voi non avete disobbedito a degli ordini no 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 ma no c'era e c'era il mio capo non è che abbiamo noi disobbedito agli ordini e è stata una responsabilità che si è preso il il nostro capo che il capogruppo era riccobono ma comunque è stata una cosa nel senso umano che uno vede un ferito pronto a sacrificarsi a farci sparare per salvare i figli va bene e e uno lì per lì questo ci ha fatto pietà a dire vede cioè la mafia questa era che noi abbiamo capito quello era pronto a farci uccidere e noi ce ne siamo andati infatti questo non si è mescato più di niente ed è morto nel suo letto la mafia e era questa quella che conosco io ma potrei raccontare io diverse cose che se c'è il tempo qualche altra cosa io la racconto per esempio e c'è stato un sequestro di graziella mandalà c'era allora il l'ordine che in sicilia non si potevano fare sequesti di persona vengono strangolati sette persone perché si aveva il sospetto di uno si strangola il primo il secondo fino a che si arriva a liberare a questa donna graziella mandalà questa donna viene liberata a partanno mondello in via pazienza che ora sono tutti ville là in quella zona guarda caso la la guardava un'altra donna quella che la guardava era una donna e badalamente siamo nelle nelle 69 70 71 insomma in quegli anni era il il marito era un costruttore un certo quartucci e che fu arrestato perché ci hanno amputato tutti gli omicidi questo badalamente viene e dice guardate ragazzi l'ordine è di noi che tutti quelli che fanno sequesti e in sicilia debbono essere uccisi però questa è una donna quindi se qualcuno si prende la responsabilità la può uccidere però non deve dire che ordine perché noi ordine di uccidere le donne e i bambini non ne diamo questa donna non è stata toccata per dire la mafia disubitiva ad alcuni regolamenti ma erano i capi che quando si trattava di donne e bambini diciamo non erano pochi enzi a uccidere certo lei può dire qualche altro può dire ma ci sono stati nel tempo passato che sono stati uccisi bambini oppure qualche donna ma sì ma erano casi eccezionali non era come in quegli anni che si uccideva un mafioso con la preoccupazione che il figlio crescendo potesse vendicare il padre uccidevano anche il figlio prima non c'era questo perché se si uccideva un mafioso perché aveva sbagliato va bene e aveva un figlio non si uccideva perché se il figlio quando era grande voleva sapere il motivo perché era stato ucciso il padre quelli ci devo perché aveva sbagliato non c'era diciamo che si uccideva così tanto perché le volevano prendere i soldi che avevano perché le le volevano prendere il ruolo che avevano per esempio io le racconto guardi quello che ha portato il traffico di droga dalle sigarette alla droga è stato il primo in assoluto un getto nunzio la mattina era della famiglia di pippo calò di portanova però questo era molto amico di gaetano e di stefano bontate e di rosario ricobono per invita sa che cosa fanno il signor calò ed altri le mentono un getto nino rotolo un grosso mafioso che è ancora vivo accanto dice vabbè tu ti deve mettere accanto annunzio e deve vedere quello che fa lui i contatti quando questo rotolo e pippo calò hanno preso i contatti che aveva questo nunzio la mattina cosa sa che cosa hanno fatto per rignorzare l'hanno ucciso quindi a volte no a volte succede io potrei contare centinaia di questi episodi così vile così vigliacchi va bene tanto che si inventano i mafiosi ma noi mafiosi i giornalisti i giudici la guerra di mafia ma non c'è stata nessuna seconda guerra di mafia ci sono stati tradimenti ci sono stati omichidi così insomma soltanto perché uno era potente era ricco e vedete anche Messina Denaro il padre di di Messina Denaro prima di loro comandava un certo buccellato che aveva anche dei parenti nobili insomma hanno ucciso a questo buccellato parlo del settantaquattro settantacinque e ha preso possesso diciamo francesco Messina Denaro che era amico di di salvatore Messina Denaro perché tutto là era il gioco ma ma le persone purtroppo non si rendevano conto che potevano morire e sono matti tante tante persone senza sapere il perché gaspere ma se la mafia non fosse adesso io non voglio esprimermi col mio pensiero perché penso che sia rilevante perché non possiamo dire che prima uccidere andava bene a prescindere dalle motivazioni voglio dire uccidere non è mai cosa buona e giusta però la domanda che io le faccio è se la mafia non fosse cambiata nella sua visione nella visione di quella che poi è stata la politica mafiosa stregista lei si sarebbe pentito avrebbe comunque fatto il collaboratore o no? No no certamente no non è ma 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 come io come tante altre mafiosi non è cioè i collaboratori nascono perché la mafia è cambiata non è perché hanno cambiato gli uomini che hanno fatto i collaboratori cioè quando quando uno si è reso conto che sono che uccidevano persone che non è che non erano mafiosi che non erano pericolose ma erano soltanto parenti amici di qualche persona e venivano uccisi o venivano donne come venivo uccisa per esempio io ho preso un dispechiere terribile quando hanno ucciso alla moglie di Giovanni Pontate che leggo che questa donna era in vestaglia mentre stava facendo il caffè insomma per fare una donna il caffè insieme al marito e viene uccisa con la vestaglia vuol dire che era un parente che dopo dicono che è stato il cugino oppure un un amico stretto ma comunque la mafia era questa purtroppo che ormai era era aveva perso il senso della dell'umanità e e nascono i collaboratori certamente se la mafia avrebbe sicuramente mantenuto quel comportamento che io conoscevo ma io credo sono sicuro che non che non non c'era nessun motivo di di pentirmi di collaborare perché la mia mente non è che capiva che uccidere a una persona poteva essere un una cosa brutta esatto dopo io l'oggete una volta che ho collaborato e ho incominciato a cambiare mentalità dopo mi sono reso conto effettivamente che uccidere a una persona era la cosa più brutta di tutte infatti io questo col tempo piano piano l'ho capito e quando è morta mia moglie dopo io ho capito il dolore che davo quando uccidevo a qualche persona il dolore che regavo alla mamma alla moglie alla sorella di qualche persona ma io prima non lo capivo perché la mafia vedi quando io c'ho i primi interrogatorio dei giudici e mi hanno fatto una domanda nel dire ma nei paesi che comandava ma è stata una cosa così naturale io c'ho detto il prete il marasciallo e il mafioso il mafioso faceva i vecchi dello stato dove non arrivava lo stato faceva il mafioso io io ero orgoglioso allora di essere mafioso di 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 poter fare non solo io ma tutti i mafiosi qualche cosa di bene a chi stava male a chi a chi si ci poteva dare aiuto i mafiosi non erano non erano quelle persone diciamo che sono diventati dopo dopo i 79 80 per bene che ci sono fratelli che uccidono sorelle figli che fanno i padri che fanno uccidere i figli i zii che vengono uccisi dai parenti cioè è successo una carneficina c'era ormai una carneficina non era quella più la mafia logicamente questo fatto ha confluito molto i soldi perché con i soldi è nato il potere è nata la bella vita e sono nati questi invidie va bene perché dopo c'era un invidia nella mafia ma prima non si pensava mai di poter uccidere un amico un magistrato un carabiniere non c'erano altre altre levie altre visione di vita la vecchia la vecchia mafia gaspare non è interessata tanto quanto ai soldi cioè se dobbiamo parlare di vecchia mafia facendo il distinguendo tra la mafia dei corlionesi e la mafia di prima la vecchia mafia non era interessata ai soldi al potere al denaro tanto quanto la nuova mafia per virgolette ma guardi ma non c'era ma ma non c'era quella possibilità che viene dopo l'ottanta quando tutti già io nel 1975 io sono costruttore ma non io tutti i mafiosi di palermo e della sicilia erano tutti costruttori perché i costruttori poveracci richiamo chiamamole così poveracci diciamo non potevano fare più i costruttori se non avevano un mafioso come sodio quindi tutti i mafiosi erano industriali erano commercianti perché sono entrati nelle aventi soldi invece prima quando non c'erano soldi la mafia si nutriva dei saluti che facevano le persone delle dei ringraziamenti che ricevevano delle cose umane che ricevevano i soldi dopo non si è discusso più il discorso ma quindi secondo te la vecchia mafia se esistesse ancora non sarebbe poi così negativa non ho capito non la vecchia mafia secondo lei se esistesse ancora non sarebbe così negativa ma guardi se avrebbe la vecchia mafia se avrebbe preso la malattia dei soldi può darsi che diventava come quella mafia che conosciamo noi o che conoscono i giovani va bene ma la mafia rurale quella antica erano erano amici dei giudici erano amici dei politici erano quelle persone che guardavano il benessere va bene certo si sono comportate sempre male i mafiosi nel senso che tiravano gli interessi da dai personaggi che loro che dipendevano ma non ma non erano i mafiosi che avevano un potere economico dopo è nato il potere economico dopo uno che faceva per tanti anni il fattore a un magistrato a un giudice a un politico al momento che dopo che non aveva più di bisogno economicamente voleva comandare più del giudice più del politico perché i soldi i soldi e il diavolo sono e la potenza i soldi non ne fanno nascere io lo so io lo so prima perché prima io ero sempre un mafioso che mi ritenevo buono perché non mi litigavo però a me non è che mi interessava tanto delle persone se se soffrivano se lo sapevo io cercavo di aiutarle ma quello che mi interessava a me erano i soldi va bene era il traffico di droga a fare le corruzione fare i seguenti di persona sempre per i soldi gaspare lei ha mai usato droghe no no io mai ho avuto sempre una maledetta paura perché i primi cioè i primi mafiosi che hanno messo a toccare la droga non ne e avevano paura di toccarlo dopo c'è stato qualcuno che diciamo che si prendeva un po di cocaina però erano sempre giovani che venivano censurati da da quelle più anziani voglio chiedere una cosa gaspare ma quando arriva rina e voi vi accorgete quindi che tutta la il filone di corleone tutti i corleonesi ripeto non come si fa nei processi non si parla degli abitanti ma il filone mafioso quando voi ve ne accorgete che queste persone stanno creando delle in siciliano si chiamano tragedie si tende anche nei processi quindi delle stanno dicendo delle cose non vere per poter in qualche modo fare potere a un certo punto voi ma io proprio dico voi lei personalmente non se ne accorge non si chiede per quale motivo non non vengono fermate perché in quel momento penso che la vera forza ce l'avevano i vari Gaetano Badalamenti Pippo Calò no Pippo Calò era era più di là che di qua però c'erano tutti i vecchi personaggi tranne Michele Greco che sappiamo che ovviamente poi diventa un po quello però io dico lei non si è tra se se non ha detto queste persone stanno facendo un grosso danno guardi io le posso dire questo il primo che si è accorse di questo cambiamento che ha avuto Rina è stato Giuseppe di Cristina e mi ricordo più di una volta allora non è che comandava a passo del rigono salvatore in serillo comandava lo zio rosario di maglio che aveva una una fattoria sulla montagna vicino montelepre pensa che questa aveva tutti gli animali e tutte le montagne a sua disposizione del palermetano e teneva tutti gli animali libri nessuno ce li toccava io mi ricordo che molto spesso Riccobono andava da questa persona insieme a Badalamente a Stefano Bontari e discutevano questo che nei paesi Rina si stava uccideva persone portando dopo delle scuse miserabili sempre tragedie e menteva sempre persone a suo di sua simpatia di Cristina dice state attenti che dopo che lui si aggiusta tutti i paesi dopo scendere a Palermo ma questo specialmente il vecchio Rosario Di Maggio che dopo scede tutto al nipote in serillo Salvatore ma dice ma che deve fare a Palermo se i colonesi vengono a Palermo noi li prendiamo a calchi in culo e li portiamo insomma in me che no e Rina riuscì piano piano a fare delle tragedie a fare a usare una tattica che i palermetano non c'erano abituati cioè quando era la di tante e Luciano Ligio insieme a a Provenzano a un certo ruffino a Salvatore Rina questi siccome c'erano delle regole in cosa nostra avevano questi alcuni uomini delle dei gruppi o delle famiglie a disposizione che se passavano di giorno e le occorreva la macchina un'arma cioè il mafioso che era disegnato diciamo non c'era bisogno che perdeva tempo col capo di Cina col sotto capo subito si doveva mentre era a disposizione e dopo la sera quando rientrava si giustificava col capo a dire io mi sono allontanato perché queste persone avevano di bisogno quindi eravamo una quindicina di persone diciamo delle varie famiglie e nei vari gruppi io ero diciamo quello che del gruppo di Partanna Mondello che ero dedicato se Rina passava o Ligio eh io mi dovevo muovere perché diciamo aveva un'amicizia particolare con Salvatore Rina ma Ligio dopo ha capito male ha anzi ha capito quello che realmente ci aveva in mente Rina e l'ogente lo estromette ma andrà a dire a tutte le famiglie di di Palermo dice quando mi cercate a me perché quello che comandava non era Rina o Provenzano era Luciano Ligio quando ha cercato a me però no e quando non si trovava a Luciano Ligio potevamo parlare o con Rina o con Provenzano Luciano Ligio ma andrà a dire specificamente dice quando vi cercate a me non dovete parlare più con Rina dovete parlare con Provenzano perché Rina a volte fa troppo mangiate forse tavolate mangia troppo beve e con un colpo di pistola uccide due tre persone quindi grosso modo l'ha preso per un riacone per chiacchianone a Rina e Rina scomparisce scomparisce completamente non si fa vedere più era sempre diciamo Provenzano che noi diciamo abituati al carattere di Rina a volte ci mettiamo a ridere con il carattere che aveva il Provenzano perché il Provenzano qualsiasi cosa uno chiedeva di poter fare lui non ti dava mai la risposta ti diceva sempre viene più tardi viene domani comunque Rina si vendica in una maniera brutale fa restare a Luciano Ligio perché quando restano a Ligio nel 74 lo fa restare Salvatore Rina va bene che dopo io ce lo contesto a Mestre appena restano a Ligio scompare della circolazione Provenzano e ricompare Rina dopo Rina c'ha delle lamentere perché diciamo i caroani di Siculiana di un paese di vicino a Cattaristetta manda a dire in Canada che Gaetano badalamente era diventato il capo dei capi il Rina l'ha preso così a male che in una autorremessa che aveva un certo Marchese Filippo che dopo venne scomparso questo dice io a Gaetano badalamente ci farei pulire i gabinette da giorni comunque Rina finalmente mi dice a me Gasper è da oggi quando noi mangiamo facciamo non dire niente al riccobono però non è che mi dici di tradire al riccobono non dire niente quando noi mangiamo chi siamo non ne allora io ci dico a Rina che ero io molto affezionata a Rina e Rina era tantissimo affiossonata a me io ci dico Salvatore senti dimmi Gasper è fatta buttare a male io mi ci vado a buttare ma non mi dire di di dire una bugia al riccobono perché io con riccobono abito assieme con le famiglie siamo latitanti come faccio a dire una bugia però io Rina se come mi conosceva molto bene perché eravamo stati tanto tempo in galera e non è che l'ha preso in criminale infatti io non è che ho mandato a dire a riccobono a badalamente Rina ne parla male no no non è Rina è stata quella persona che a me mi ha aiutato tanto per esempio io sono stato l'unica persona grazie a Rina che quando mi sono sposato ero uscito della galera ne hanno combinato mi fece regalare da tutti i mafiosi 50 per lire allora va bene che ogni ogni capofamiglia portava quel gruzzoletto 500 un milione quello che c'era io me li devedevo con un compare mio insomma che eravamo molto legati diciamo e dopo quando Rina commette quello che ha fatto diciamo l'unica famiglia che non c'era diciamo il traditore era quella di partanna mondello perché Rina si fidava soltanto di me io purtroppo non ho tradito né a Rina e né a riccobono va bene in tutte le altre famiglie c'erano i traditori quindi quando qualcuno parla di gruppi di fuoco di guerre di mafia sono tutti cacchiere sono tutte invenzioni ma quindi Gaspare Luciano Liggio aveva capito che Rina non era affidabile tra virgolette no non era affidabile non era affidabile perché Rina aveva il pallino del comando ma quindi Luciano Liggio aveva capito questo sì sì perché Luciano Liggio diciamo aveva a due persone che era perché dopo vengono uccise poi quindi questi un certo Gaetano Carollo e un certo Ciulla che erano i sei quanta spalle questi quando viaggiava che era qua a Palermo queste due erano la sua ombra dopo lui quando va diciamo a Napoli dai Novoletta diciamo c'era un fratello diciamo non quello più grande quello meno grande Gaetano perché erano questi quattro fratelli quelli che comandavano Napoli insomma che ci fa l'autista a Luciano Liggio finta che Luciano Liggio era cominciante di quadri si fa chiamare ragioniere e fa la spolla tra Napoli e Milano Rina si vendica lo fa arrestare insomma non è non è una novetà perché diciamo tutti noi sappiamo ora che tutti i mafiosi importanti avevano contatti diciamo con i carabiniere va bene anche Provenzano dopo ha cercato di fare arrestare a Rina quindi almeno i mafiosi io sono stato sempre tranquillo quando io ho collaborato ho detto io ma io non è che sto tradendo io i miei compagni io li sto rinnegando infatti che glielo ho detto a Rina quando dopo l'hanno arrestato però diciamo questo discorso era soltanto per la mafia ma era anche un discorso per la politica perché anche in politica c'erano personaggi diciamo che andava bene quello che faceva Rina ma io non capisco non capisco però una cosa quando proprio andando nella nella situazione molto terra terra molto spicciola ma quando viene ucciso di Cristina che mi sembra che venga ucciso prima di Badalamenti sì ma Badalamenti non è che viene ucciso Gaetano Badalamenti viene ucciso io ho sbagliato non Gaetano Badalamenti eh Bontade ho sbagliato quando viene di Cristina mi sembra viene ucciso prima di Bontade sì e Cristina e Bontade erano amici sì io mi domando ma queste quando viene ucciso di Cristina come mai Bontade non pensa di vendicare di Cristina e quindi uccide Rina che era così impossibile da trovare Rina? Allora vedi quando Buscetto dice che i mafiosi non dicevano bugie ma è la verità perché Buscetto diciamo ragionava come come negli anni 63 Rina si inventa la tragedia Rina prima uccideva alla persona va bene e dopo diceva che quello era confidente che quello aveva ucciso qualche persona ma però in questa trappola ma cadono tutti i mafiosi perché appunto non erano abituate alla bugia alla tragedia ma guardi ma dopo i traditori i traditori ci sono stati in tutti i campi ci sono stati a Palermo ci sono stati a Catania ci sono stati a Vincenzo ci sono stati a Marsala dopo Rina viveva dei traditori che li premiava sono nati a per esempio ci voglio raccontare una cosa ci sono persone che credevano alle tragedie che facevano si è bloccato eh penso che abbiamo perso un attimo Casper penso che un problema di connessione adesso lo però lo 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 riavremo sì in questo momento è bloccato facciamolo così adesso rientrerà la risposta ovviamente poi è un po' complicata da capire però anche abbastanza logica perché Gaspar Emuto lo ci dice in realtà non si poteva cioè loro non erano abituati alla bugia e quindi chi diceva le bugie in qualche modo veniva creduto io penso che erano veramente due mondi talmente diversi che si andavano a incontrare a scontrare due modi di intendere eh la mafia e sicuramente ma io non penso che la vecchia mafia non alla vecchia mafia non interessassero i soldi e alla nuova interessassero credo che c'erano proprio due modi diversi due codici diversi di intendere la gestione del potere la gestione dell'onore la gestione della parola sempre tra virgolette onore e parola però sicuramente quella vecchia mafia aveva come codice personale quello che non dirsi bugie quindi quando arriva arriva una frangente che in qualche modo crea delle situazioni eh dice bugie che delle situazioni non eh non veritiere comunque viene creduto e quindi lì è molto più semplice ti ho fatto un breve riassunto eh Gaspare ma io di questo discorso ne potrei raccontare di chi le di chi le perché tutte le persone per bene vengono uccisi perché vogliono esurpare il posto o perché sono invidia perché non erano perché viene ucciso qual è la giustificazione che dà Rina dell'omicidio di bontate? Allora quando succede l'omicidio di di Cristina e di Cristina alcuni mesi prima aveva eh avuto un attentato cioè eh viene visto salire dentro la macchina con due amici suoi però improvvisamente viene chiamato lui scende della macchina non se ne accorgono chi aveva visto eh di Cristina salire in macchina quindi dopo alcuna mezz'oretta viene attentato diciamo le persone che c'erano dentro la macchina e c'erano due colleghi di di Cristina di Cristina si salda capisce che il mandante era Madonia Francesco di di Cattanissetta non quindi non quello di Palermo è l'altro Madonia no 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 la quello di Cattanissetta eh quindi dopo alcuni mesi muore questo Madonia Madonia Francesco e logicamente tutti capiscono che è il di Cristina perché il di Cristina era un vafeoso che ma ha ucciso a quello per legittima difesa diciamo perché sapeva che quello lo voleva morto aveva attentato quindi fu e Rina ormai che ci aveva ai palermitani quasi tutti d'accordo diciamo dice che di Cristina si era lasciato solo non avrebbe avuto mai il coraggio o la possibilità di uccidere a Madonia e voleva uccidere siccome erano qua quasi tutti i compari Ligio Badalamente stavano montati di Cristina Pippo Calderone il i Salvatore Rina accusa e Pippo Calderone Stefano Montate e e Gatano Badalamente va bene a Calderone e sempre tramite diciamo il traditore in questo caso era benedetto Santa Paola che ci faceva l'autista diciamo a Calderone e e fu lui alta dirlo vuole uccidere pure a dopo che aveva ucciso a di Cristina e diciamo vuole uccidere pure sia a a Stefano Montate e sia a a Badalamente però a Badalamente non riescono a ucciderlo perché lo buttano fuori della commissione dice lei ma perché non lo strangolavano in commissione esatto siccome c'era una legge diciamo del 1963 che quando uno andava in commissione anche se lo mentevano fuori anche si accusavano di qualche cosa orribile però non non lo dovevano uccidere perché nel 1963 era successo che la commissione per sbaglio e Salvatore la Barbera va a parlare con alcuni personaggi per i fatti che erano successi in quelli in quell'episodio che erano saltati delle Giulietti in aria comunque ci danno una colstellata nella pancia per dire ma cosa hai in pancia e l'ammazzano lo spavano ci hanno tagliato tutto fino alla gola angolo la Barbera che era il fratello e che sapeva che il fratello era andato a Ciaculli nasce la famosa guerra del 1963 e rimane quella legge che che uno anche se andava in commissione e veniva accusato di qualsiasi cosa però non doveva essere ucciso appena usciva si potevano uccidere il badalamente Gaetano quindi lo mentono fuori famiglie perché ci portano questa accusa e lo mentono fuori famiglia però quello scompare perché non hanno avuto più la possibilità di ucciderlo anche se ci sono stato un sacco di tagliere uguale Rina vuole fare per Stefano Montate però Stefano Montate dice io io non esco dice noi possiamo fare la guerra tanto che viene pensa che c'era Greco Scicchitello Latitanti viene completamente a Palermo a dire oh lasciato andare a Stefano Montate perché non c'entra niente quello insomma non è che può succedere la barahonda ma si pensava che era tutto tranquillo va bene però Rina che già aveva diciamo messo in qualsiasi famiglia c'era il traditore che 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 portava le battute l'unica famiglia che che non c'era il traditore era quella di Partanna Mondello perché io a Salvatore Rina ci avevo detto dimmi vatti a buttare a mare io mi ci butto però non mi dire che io posso dire una bugia e a riccomono quindi ci sono state persone che hanno portato la battuta hanno ucciso a Stefano Montate dopo che l'hanno ucciso è come si sono inventati che Stefano Montate voleva uccidere Rina è come quando è finito la guerra in Italia e dopo hanno scritto come mai era finita la guerra chi l'ha scritto la storia quelli che hanno vinto ma ho capito sì ho capito il concetto ma a un certo punto le rifaccio la domanda lei personalmente se ne anzi non le faccio un'altra domanda prima tutte queste persone che tradivano perché tradivano perché in qualche modo volevano più potere non riuscivano ad averlo con loro capi sì e tradivano i loro capi guardi è questa lei può ascoltare c'è una c'è una dichiarazione non tutti dicono delle cose però c'è un certo Anselmo Francesco che in una sua dichiarazione ne fa tante dichiarazioni vabbè in una sua dichiarazione dice che Rina in ogni famiglia c'era diciamo l'amico non è che dici il traditore c'era l'amico che portava i rapporti a a Salvatore Rina ma quello che fa più diciamo danno alla mafia ma tante però non lo vogliono ammettere non lo dicono non non so perché non è stato Michele Greco detto il papa esatto perché questo era l'uomo che secondo noi aveva tutto quello che un uomo può avere in terra potere ricchezza sapeva parlare era rispettato e però questo poverino era succo di Salvatore Rina cosa succedeva quando succedeva un episodio eclatante va bene che tante cose si sono fatte più non con quelle regole che gli diceva la commissione va bene gli diceva Rina con due tre quattro di diciamo sui alleati e ognuno che non sapeva niente correva subito da Michele Greco per dire che era lui il coordinatore a dire ma che è successo come mai e lui sempre pendeva qualche scusa però ci diceva gli umori che avevano queste persone qualcuno magari si lamentava ma potresti che è stato Rina insomma no ma che dici no ora è lui però ce lo diceva Rina e già quello Rina pensava che quello era contro di lui psicologicamente va bene e questo è stata la vero la vero diciamo sconfitta di tutta la mafia per bene perché io dico che in in Sicilia non tutti i mafiosi erano così come Rina o come Provenzano o come Mutolo come c'erano anche delle persone mafiosi ma non è ma non è che si mancavano di omicidi esatto per esempio c'erano i buccellati c'erano i salvo c'erano tanti altri che non facevano omicidi e no questi avevano l'impero economico Michele Greco Gaspare come mai aveva paura di un Rina? è un uomo molto forte anche perché Michele Greco non era l'ultimo arrivato era quello che comunque aveva un grossa credibilità e grosso potere perché aveva paura di Rina? però nemmeno era il primo arrivato perché Michele Greco diciamo non non faceva parte di quei due cugini latitanti va bene fiacchiettiani e cicchieteddo perché se lei legge la storia di 40 anni prima di 50 anni prima diciamo questi due partiti di Greco si erano completamente presi a scopettate va bene e diciamo e la famiglia di Michele Greco ci dichiavano il terente perché a tipo che era uno sbirro va bene comunque dopo i soldi a volte dopo ci fu quando il vero fortuna di Michele Greco è stata che quando diciamo c'era la guerra dei Navarriani con i con i Ligiani va bene loro facevano il Luciano Ligio più che altro era sempre latitanti a cioculli quindi questo rapporto è rimasto però il vero diritto loro l'hanno acquisito quando muore Michele Cavataio nel 69 che muore Bagarella e Luciano Ligio da quel momento a Palermo si è versato il sangue dei Corleonesi i Corleonesi debbono entrare in tutti i traffichi che c'erano ed è là però la mentalità mentre il Palermetano era più aperto più loro hanno preso possesso e se lei si ricorda c'è un poichetto chiamato i 114 fatto nel 71 nel 70 71 in cui questo rapporto viene fatto dai carabinieri perché c'è anche un parlare un pochettino strano che arrestano a tutti i mafiosi di Palermo ma non di Palermo della Sicilia quasi anche di Catania di Trapania però non toccano a nessun Corleonese un Corleonese non c'era c'erano 114 mafiosi i capomafia più importanti non c'era un Corleonese e in quel periodo Ligio con Rina prendono possesso perché diciamo mentre ci sono tutti questi personaggi in galera Rina fa il sequestro di Lucio Cassina del figlio del conte Cassina che ci fu tra i mafiosi c'era un si parlava in una maniera strana e niente e quindi dopo però i mafiosi sono usciti però e Rina ha avuto in quel momento modo di allacciare contatti diciamo con con diverse mafiosi con Pippo Clò con altre persone. Perché si parla tanto noi sentiamo sempre parlare di Rina di Provenzano? Leuca Bagarella che invece anche come me lo descriverei Gasper era un personaggio di assoluta caratura perché se ne parla poco? Che tipo era Leuca Bagarella? Che tipo è perché è ancora vivo? Ma Leo Luca Bagarella guarda era un tipo nel gergo come mi so esprimere io omertoso diciamo e di parola era molto serio anche se c'è stato diciamo Gaetano Grato che dice che lui ne parlava male no forse c'era qualche chiacchiera così lieve però non è stato sempre un personaggio importante serio più che altro serio e dopo era cognato di Rina va bene dopo era stava sempre a Palermo stava con in costo dei pilli dopo si sposò con con Barchese era molto amico di personaggi cioè era accattivante era uno serio se diceva qualche cosa la manteneva Bagarella e dopo quando Anna resta da Rina insomma anche se per poco tempo quello che comandava era lui Marchese che poi diventa collaboratore anche lui chi? Marchese Pino Marchese poi diventa collaboratore sì uno uno Giuseppe lei prima ci ha parlato Gaspare di massoneria sì perché ci sono legami così forti tra mafia e massoneria e perché soprattutto ci sono legami così forti? guardi e queste legame ci sono state sempre e credo che ci sono sempre ma la massoneria è è realmente quel che quella che comanda diciamo nel mondo nelle in tutti gli stati ci sono i vari rami e per esempio io a Palermo c'erano i capi solo si è sentito dire che che erano massoni personaggi importanti erano mafiosi e massoni però io già ne avevo sentito parlare negli anni settantaquattro della massoneria perché la polizia i carabinieri si erano abituato a fare quando per esempio in una borgata moriva un una persona un mafioso il carabiniere sia carabiniere o polizia facciavano l'associazione e imputavano quell'omicidio esatto non è che lo imputavano a uno imputavano venti persone va bene o omicidio e associazione però si sapeva che dopo due anni e tre anni andavano in casa e se ne andavano tutti assorte perché non c'era un capo di imputazione specifico a un certo punto i mafiosi si sono un pochettino incazzati prima hanno fatto togliere il il confine che c'erano nelle isole che c'era il ministro restivo si andò da dal capo mafia di bagheria non mi ricordo Antonio Mineo che erano compari e si ci disse se ci dica tu compare se non togli il vizio di fare questa legge che i mafiosi devono andare nelle isole prima ammazziamo a lui e dopo ammazziamo a te oppure prima ammazziamo a te e dopo ammazziamo a lui e hanno tolto i confine della terraferma e l'hanno portato dice le la domanda più specifica qual era che mi perché questo qual era il bisogno di avere questo legame perché un'altra organizzazione che la ammazzone quindi nel 74 diciamo i carabinieri la polizia si era preso questo vizio che appena moriva uno in una borgata quelli dell'avvocata che erano schedati tutti i mafiosi venivano tutti arrestati per l'associazione per a un certo punto decidono ci dobbiamo fare togliere il vizio però chi poteva parlare con i magistrati con erano gli avvocati e c'era pure un cognato il cognato di Stavoro Montati un getto vitale che era amico di questi avvocati non mi ricordo più come si chiamano ne ho conosciuto due io ma che erano completamente dei capi e si ci parlò si senti se non la smettono se non la smettono di appena mora uno fanno l'associazione e arrestano a tutti quelli schedati per mafiosi qua dice noi mettiamo a fare degli attentati e mi ricordo che dopo un po' di cacchiere grazie agli avvocati perché quasi gli avvocati sono tutti passoni va bene hanno il potere proprio e hanno tolto insomma hanno messo la legge insomma non lo so ora come vengono chiamati queste legge che dovevano arrestare alle persone per fatti specifichi cioè io che facevo una rapina doveva essere preso sul fatto quello che dovevo fare un omicidio lo dovevano prendere sul fatto e imputarlo a chi aveva fatto l'omicidio e qua incomincia la pacchia della mafia siamo negli anni 75 76 quello che diciamo vero è che dopo ci fu nel 73 vitale che fece fare quella associazione però diciamo le collusioni le amicizie come si vogliono chiamare tra la mafia e la magistratura i poteri forti era così forte che poverino viene condannato quasi soltanto il vitale che dopo sette anni esce e viene ucciso va bene e dopo diciamo si sveglia Chinnici il presidente Chinnici e a un certo punto dice ma qua dice che non stava arrestando più nessuno c'era contrada che comandava come polizzotto diciamo alla criminal polli De Luca e Boris Giuliano e quindi Chinnici diciamo mi dice no qua dice era la pacchia non arrestavano a nessuno i mafiosi facevano tutti quello che volevano era successo pure che incominciano il trafico della droga comunque fu diciamo Chinnici quello a volere di intradurre di nuovo le associazioni a delinquere gli arresti e quindi Chinnici fu il primo diciamo a saltare in aria va bene perché la mafia ormai si sentiva talmente forte diciamo che aveva i soldi aveva acquisito quelle amicizie che c'erano da sempre ma si erano rafforzati perché alcuni politici completamente spacciatamente erano in contatto con i mafiosi ma non che dopo alcuni vengono uccisi alcune se la fanno franca comunque però incomincia di là il discorso della massoneria perché interviene verso i magistrati io non posso dire se Falcone era o non era un ma Falcone fu diciamo l'uomo che realmente ha studiato come come lottare la mafia quindi fu il primo diciamo a studiare e a comprendere che la mafia era attaccata ai soldi quindi seguendo i soldi poteva scoprire tutti tutti gli imbrogli che c'erano in tutta la Sicilia. Gaspare le voglio fare un paio un paio le farò dei nomi e lei in maniera molto veloce proprio molto con tre parole me li descrive il primo Luciano Liggio. Era un uomo molto mafioso molto potente però era un po' fanatico perché parlava in italiano e pretendeva che tutti gli altri parlassano italiano come lui. Si si fidava ciecamente di Rina e di Provenzano però fu stradito dal suo miglior amico che era Salvatore Rina Gaetano Badalamenti. Un uomo carismatico quello con lo sguardo era aveva uno sguardo penetrante lo chiamavano di suo nome Battaglia perché non aveva paura. Lui non volle non volle insanguinare le strade i palermitani quando l'hanno messo fuori perché a qualcuno ci ha detto guardi se io dico è contrasto a queste che sono rovinate e ci vogliono rovinare a noi in ogni strada di Palermo dice sarà sporca di sangue. Si è si è si ha consentì andarsene in Spagna dopo dove fu arrestato condannato ingiustamente 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 perché lui non non aveva fatto quel traffico che ci hanno imputato. Aveva fatto altri traffichi ma quello che ci imputano no e e e tanto che muore dopo tanti anni in galera in America. Totorrina. Totorrina da sempre si si sapeva che era uno che voleva comandare va bene io ho avuto modo di conoscerlo bene 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 forse più bene di tutti perché siamo stati due volte a semi in galera sono andato a casa sua sono andato diciamo dalla mamma dalla sorella ci volevo fare anche il colloquio il carcere a Bari però non mi hanno fatto entrare e lui si era affezionato a me morbosamente però per me era come mio padre se mi diceva buttete a mare io mi ci buttavo però dopo diciamo ho rinnegato il suo comportamento perché non era più quello che che io l'avevo conosciuto negli anni sessanta e settanta. Tommaso Buscetta? Tommaso Buscetta era un uomo molto carismatico ci piaceva la bella vita non non è vero che veniva disprezzato dai suoi mafiosi non non è lui era quando siete con me dal settantaquattro fino al settantotto diciamo i migliori personaggi di Palermo ci andavano a fare il colloquio anche dentro il carcere perché allora si poteva entrare in una maniera roccambolesca dentro il carcere e io ho visto con i miei occhi tanti dottore e mafiosi che lo andavano a salutare dentro il carcere dopo poverino è morto insomma diciamo non vecchio vecchio vecchio. Totuccio Contorno? Totuccio Contorno io l'ho conosciuto negli anni settantaquattro settantacinque era un uomo un po' rozzo però era il vero mafioso caratteristico degli anni antichi io mi ricordo quando ci fu il massiprocesso e che lui quando usciva si ci diceva Cornuto allora lui rispondeva con più violenza e mi ricordo che l'indomane mandò all'avvocato e minacciandoci guardi mi ha detto Totuccio Contorno di dirvi se appena ci dite Cornuto lui vi imputa un omicidio siccome quasi tutti avevano fatto gli omicidio a loro quando lui entrò nessuno parlava più. Leoluca Bagarella? E gliel'ho detto Leoluca Bagarella per me era uno dei di di quei caratteri che ecco lui sarebbe stato uno al potere diciamo che veramente aveva il carisma di un capo perché gli irregolamenti che aveva la vecchia mafia lui li 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 teneva però logicamente essendo un mafioso e come tutti i mafiosi diciamo magari sentendomi parlare qualcuno così di Bagarella dice ma che animale è? Io sto raccontando Bagarella che era era un uomo va bene di una scelta caratura va bene e per me è rimasto quello anche oggi anche segnalera insomma. Bernardo Provenzano? Ma diciamo Bernardo Provenzano poteva essere la coppia diciamo più leghiera di di Messina Denaro diciamo non per le donne ma per i soldi e diciamo e non aveva un carattere fermo come come l'aveva Bagarella o Rina o Brusca o qualche altre persone. Saro Riccobono? Saro Riccobono per me è stato un carissimo amico non è vero che magari faceva delle cose brutte faceva lo spione non è davvero non è lui era un uomo che diciamo battagliero che quando a un certo punto c'è vogliono fare come capomandamento a a Cammino Giacomo Giuseppe che era di San Lorenzo e lui era di Pallavicino di cioè nel triangolo dell'istessima famiglia e lui ha detto senti se non mi fanno capomandamento di che noi di che a tutti i mafiosi che vengono a Mondello e si vogliono prendere segnalato se non pagano il biglietto non facciamo entrare a nessuno quindi era un battagliero non era un terrorista per come tanti lo hanno definito era un mafioso di quello vecchio stile. Stefano Bontade? Stefano Bontade era l'uomo uno degli uomini più eleganti che ho visto io insomma in Cosa Nostra era molto saggio diverse volte io ho reclamato diciamo con alcuni suoi uomini che facevano i furbetti con alcuni commercianti di Palermo e lui molto carinamente insomma sapeva badarle a tutti però era diciamo elegante rispettoso e aveva preso l'eredità del padre che era molto molto addensato nella politica. Michele Greco? Michele Greco era l'uomo che poteva avere tutto sulla terra però è stato il traditore quello che più ha favorito diciamo a Salvatore Rina e facendo ammazzare un tacco di persone perché portava l'indicazione a Rina prima che che uno magari si confedava con lui ma questo non facciamo che questo ha fatto questo ha fatto quello quindi voleva fare pagare qualche cosa contro Rina e lui subito l'avvisava e Rina aveva la tattica che prima l'ammazzava e dopo diceva l'ho ammazzato per questo motivo. Salvatore Lopiccolo? Salvatore Lopiccolo guarda io l'ho conosciuto e abbiamo fatto tanti omicidi con lui tanti tanti e era un mafioso diciamo vecchio stile diciamo però io diciamo l'ho pregato un giorno mentre eravamo in un'aula a Bunkerri l'ho pregato nel senso di dire collaborare anche tu perché tu c'è un figlio tuo che è giovane a vent'anni io sapevo che sarebbero e avrebbero preso l'incascio lo fallo per tuo figlio io per mio figlio l'avrei fatto però lui mi rispose di che non ne dice no io non ho niente da collaborare comunque anche lui è un mafioso vecchio stile diciamo bravo bravo nel senso che dico io insomma ho ucciso tante persone però non era un uomo cattivo era un uomo buono però che se doveva uccidere a una persona non si faceva scrupoli nitto santa paola ma nitto santa paola è stato un traditore perché ha tradito a calderone però diciamo è stato un uomo diverso di di salvatore rina e di tanti e di tante persone che sono ancora tuttora vivi a catania lui non non si è voluto macchiare le mani diciamo incontro i politici anche se diciamo ha dato consenso quando c'è stato l'omicidio del giornalista fava però diciamo dopo non ha voluto scendere a patte corrina per uccidere ministri personaggi politici magari che lui tempo prima c'era stato amico ecco non è gaspare mutolo gaspare mutolo gaspare mutolo gaspare mutolo che cos'è sta pagando no no mi deve dire gaspare mutolo quello lì gaspare mutolo e era da quando è nato era ladro è nato rubando è uscito forse della pagina della mamma rubandoci qualche cosa al dottore va bene infine all'età di 12 anni 13 anni rubavo andava a scuola dopo 12 anni 13 anni sono stato impiegato in una officina dove il principale era un mafioso e dove c'erano delle riunioni della mafia vecchio stile quindi io ho cresciuto in mezzo a questi personaggi magari preoccupandomi e dispiacendomi quando ogni tanto ne moreva qualcuno non capivo ancora però vedevo e le distinguevo e infatti ora l'ultimo libro che abbiamo scritto con con maria santa maria vedevo questi persone diversi e quando io sono diventato dopo tanto tempo diciamo un mafioso mi sentivo come loro cavalli di razza insomma perché diciamo avevamo possibilità di aiutare alle persone di fare però diciamo l'unica cosa che noi facevamo e pensando che facevamo una cosa del bene cioè per il bene della società era l'omicidio cioè l'assassino magari lei ci può sembrare strano diciamo questa parola questa questo paragone va bene ma noi in tutte le cose diciamo si perdeva tempo si discuteva però quando si doveva fare un omicidio si faceva così ben volentieri perché si pensava di fare una cosa giusta che chi si uccideva aveva fatto diciamo una cosa male e noi con quella mentalità distolta perché capisco ora che non abbiamo nessun diritto di uccidere a una persona dopo quando io ho visto che la mafia completamente era cambiata io mai ho pensato che io ho tradito la mafia io quando ho fatto il primo confronto con Rina ho detto io non ho tradito io non ho paura io vi ho rinnegato perché mi sono sentito tradito io questo io ce l'ho detto in faccia a salvatore Rina che che l'avvocato Ligotti infatti ne in una sua intervista diceva Rina era molto addolorato quando perché Rina a me mi voleva bene esatto quando ha sentito che lui mi diceva quando la corte era rientrata e non pensava che le che magistrate avevano lasciato un un ingofono ancora acceso che lui che mi diceva perché non ritorne a essere quello che era prima e comunque dopo ci sono tanti episodi che io sì anche se ne parlo male di Rina però ne parlo male sempre con una chetta dolcezza perché Rina a me mi ha fatto da padre mi ha aiutato tanto e con chi mi ha aiutato io non so essere completamente contro al cento per cento però capisco che i misfatti che ha fatto Rina sono irriparabili però ormai io credo diciamo nel perdono per come ho detto prima diciamo io il perdono lo sognavo come una cosa è dopo io ora a distanza di trent'anni che ho collaborato e ci sono state persone effettivamente che mi hanno perdonato e continua a di ad avere queste soddisfazioni di di persone che c'è pure qualche persona che ne parla male a tanti però ci sono tante persone che ne parlano bene caspare oggi com'è la sua vita lei cosa fa si alza la mattina fa colazione cosa come si svolge oggi proprio nella quotidianità io quando mi sveglio a mattina il primo pensiero che ho mi sciacquo il viso c'ho una una stanzetta dove c'ho il cavalletto tutta i le cose per appendere i quadri e la mia vita si svolge dipingendo e ascoltandomi la musica ma guardi io con mia moglie eravamo molto appassionati mi scusi che io e mia moglie eravamo tanti appassionati diciamo alle ai canzoni napoletane quindi mi sono rimasti questi canzoni napoletane dopo diciamo che sono amanti di tutta la musica da Mario Mero da in poi possiamo dirlo sì da Mario Mero Mario Nardi Dona Starita tu lo fai insomma i cantanti tutti antichi napoletane per me sono la mia il mio la cosa quotidiana che aspettano tutti i giorni per me tutti i a volte mi commuovo anche perché qualche figlia mia ma c'è il ritorno no la sentiamo benissimo io la sento benissimo a volte magari la musica mi commuove un pochettino i miei figli qualche figlio mio e magari mi vede con gli occhi rossi perché io sa insomma penso il passato non è che lo posso dimenticare il passato è il presente io cerco di modificarlo in bene però il passato io so che ho fatto del male e quindi però quello che sento di bello è che diciamo la pittura mi dà tante soddisfazione ora anche dipingo quasi quasi 40 anni e vivo per questo tempo che rimane la mia la mia vita sarà questo dipingere 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 gaspario alle mie spalle ho il suo libro cavalli di razza ci sentivamo cavalli di razza ora io le voglio chiedere ma lei oggi si sente un cavallo di razza ma guarda io forse cioè io ho scritto e ho fatto scrivere da Maria Santa Maria con quel nome ci sentivamo cavalli di razza perché effettivamente ci sentivamo superiore per le possibilità che avevamo va bene insomma e di fare impiegare io ho fatto impiegare la piglia del baronese da un industriale un chetto elga un nome molto conosciuto perché avevo queste possibilità oggi è un altro periodo però io posso dire che la soddisfazione che mi ha dato questo mio modo di collaborare e di conoscere questi grandi personaggi che parlano sicuramente della storia con Salvatore Falcone Borsellino e Salvatore Borsellino insomma con tutti questi persone che mi hanno aiutato in questo cammino che ho soffrendo doloroso perché il cammino che faccio è molto doloroso ho sofferto molto collaborato ho cambiato vita ma principalmente per la mia famiglia e soffro adesso pure per i ribotti che hanno preso diciamo alcuni familiari miei diciamo che non hanno accettato hanno accettato il fatto che molte persone la voce c'è la voce che sdoppia e appunto sento che ora sta sdoppiando un po' mi arriva la cosa però prima si era aggiustata è stato un attimo probabilmente dica a Maria di rientrare io la metto fuori dica a Maria di farla rientrare siamo c'è stato un piccolo problema con l'audio adesso lo facciamo facciamo rientrare io nel frattempo vi dico alle mie spalle il libro l'ultimo libro di caspare muto cavalli di razza noi stiamo sentendo ovviamente le parole di un uomo che oggi è sicuramente diverso tuttavia ciò non giustifica quindi poi ogni ecco di nuovo dentro stavo dicendo mi perdono un attimo sto dicendo comunque noi non giustifichiamo quello che è stato il passato ma in realtà non lo giustifica neanche lui è tutto in un sistema prego le chiedevo oggi si sente quindi un cavallo di razza guardi per un certo modo di come diciamo la mia qui in quell'epoca mi mi sentivo cavallo di razza nel senso di quello che facevo perché io ero un mafioso che avevo le condizioni il potere di poter fare del bene e quindi però e mi sentivamo sempre un cavallo di razza però nel male però le persone a noi che sapevano quello che si faceva noi mafiosi ora io mi sento veramente dentro l'anima un cavallo di razza perché diciamo ho perso tanti persone cari che mi volevano bene che si sono allontanati però ho trovato tante persone strane che mi hanno dato quella forza quelli che mi quel coraggio diciamo di non stancarmi perché sa insomma essere collaboratore diciamo ci sono si paga va bene io perché ha detto che la sua famiglia non accetta la collaborazione poco fa ha detto la sua famiglia non la alcuni membri della sua famiglia quello che ho capito non la prendono di buon grado perché ma ci sono ma ma per quella mentalità che c'è in sicilia va bene io ho per esempio quattro figli va bene e per esempio due figli miei non hanno accettato che io mi avrei tolto la maschera e che avrei continuato diciamo quello che voglio fare altre due persone altre due figli invece sono d'accordo perché apprezzano comprendono non hanno quella mentalità va bene e dopo ho perso due figli però ho trovato un genero che mi ha dato tanto che mi dà tanto ho perso tanti amici ma ne ho trovato anche se sono di meno tante persone che che mi danno la forza guarda infine ieri sera io sono stato a Bologna ci sono state persone che si sono voluto fare la foto con me che mi hanno detto parole che che mi danno quella forza di continuare sempre diciamo questa cosa che voglio fare io di continuare che dice tu hai avuto il coraggio di alzare la testa e di non abbassarla mai dice ma perché un discorso è collaborare collaborare per le persone che parlano contro la mafia e il discorso è chiuso io invece ho parlato di di qualsiasi personaggio diciamo anche se c'è la paura e c'è stata la preoccupazione diciamo che io ho subito delle come si dice delle delle violenze morale però io non mi sono arreso perché capisco che la strada che ho preso che ho intrapeso ci sono persone che siciliane e anche palermetani che mi scrivono che io ho fatto bene e quindi e che farò bene senza guardare nessun ostacolo gaspere gliela posso chiedere una cosa ovviamente lei se non mi rispondo sì o no se o se non vuole rispondere non mi risponda durante la sua la sua collaborazione ci sono stati dei fatti o dei nomi che lei non ha detto perché magari erano talmente vicini a lei che non ha avuto il coraggio di dirle l'ha voluto tutelare o sì o no se oppure mica non rispondo io penso che tutto quello che mi ho ricordato per fare bene alla giustizia l'ho detto sempre e certamente io la cosa che più mi mi è scombustolata diciamo è cioè sapere avere la certezza che ci sono pezzi dello Stato non tutti fortunatamente diciamo che odiono diciamo sono coinvolti completamente nel male e e sono contro i collaboratori va bene questo che mi ha fatto veramente più male di quello che mi avrebbero potuto fare diciamo i i mafiosi se lei si ricorda che qualche amica mia che mi ha detto questo non lo dovevi dire io quando chiudo la trasmissione con Giletti e Giletti mi dice ma lei non ha avuto mai paura no io non ho avuto mai paura anzi le dico se un giorno mi dovesse accorgere che c'è qualcuno che mi vuole sparare che mi vuole uccidere avrò il tempo io lo ringrazierò pure perché io per me questa vita è una è una penitenza non è un ma io sto pagando sono convinto quando si è mi sbaglio ma io sono convinto che io sono in vita perché debbo soffrire perché è una penitenza che io devo fare per tutti i peccati che ho fatto prima quindi è la penitenza più grave è stata quella la perdita di mia moglie va bene perché io con mia moglie non mi sentivo mai solo ma al momento che è morta lei io mi sono sentito solo anche se ho trovato tanti tante persone che mi aiutano nel comprendere mi fanno delle logge però io sono in effetti sono solo quanto è morta sua moglie? nel 2016 quindi relativamente recente come? sette anni e io da sette anni diciamo come si dice che ho sentito dire che ci sono i monichi di clausure alle moniche io sono un monaco di clausure ormai vivo per rilasciare il ricordo attraverso la mia pittura e vivo soffrendo perché diciamo ho fatto dei peccati ma moglie l'ho appoggiato sempre in ogni sua scelta ha appoggiato sempre le sue scelte ma mia moglie guarda io con mia moglie ci sono stato assieme 51 anno quindi noi siamo riusciuti assieme mia moglie in fondo in fondo sapeva che io non ero un cattivo io ho raccontato delle cose a volte che mi viene da ridere va bene come quello che ho fatto l'investimento a Valdese mi hanno tamponato e io ci ho dovuto fare l'assicurazione per forza quello era tutto malandrino ma io ero con mia moglie i miei figli anche lui però lui era così spabaldo malandrino ci ho dovuto fare l'assicurazione lui tamponandomi dopo la sera verso le 11 ho sentito suonare mia moglie mi dice c'è la polizia sicuro io invece ho guardato dello specchietto ed era questo preoccupandosi poverino sa con chi aveva parlato che aveva fatto questa pallandineria e mi deve perdonare mi deve scusare io ho detto ma fate non per dire non però a volte queste cose io li ricordo e li ricordo diciamo pensando sempre che la vita purtroppo ti dà alcune soddisfazioni che tu hai avuto per esempio c'è stato un certo Umberto e io e questo lo piccolo che l'epocanzi ha detto eravamo amici avevamo avuto l'ordine di ucciderlo però io sapevo che la moglie era incinta e ci ho detto sente ma evitiamo di ucciderlo insomma ci deve nascere il bambino e comunque per non la portare a lunga abbiamo bruciato la macchina questo era seduto sulla veranda già messo a dire parolacce se era armato ci sparava pure noi ci abbiamo bruciato la macchina siamo andati via dopo io ho telefonato alla moglie dicendoti senti portati via a tuo marito altrimenti il bambino che ti nasce ti nasce vedo ma io parlo degli anni settantacinque mio fratello che abita in alt'italia quasi sei sette anni fa mi ha chiamato che ti ricordi Umberto così così quello che rubava le macchine che sai che ti manda salute perché dice quando è partito ha fatto fortuna perché si è messo a fare il muratore insomma per dire ma di questi episodi c'erano diversi e a volte io me li ricordo e dico purtroppo ho fatto tanto male perché il male lo so che ho fatto male però piano piano cerco di rimediare in qualche cosa ma lei lei è contrario o paurevole a 41 bis ma guarda io ho difeso a quelli del 41 bis sono stato il primo a difenderlo che con il giornalista quello che va per ruotolo io parlo che ancora c'era c'era giornalista di telegiato bagarella era ancora fuori quindi parlo del 96 del 94 comunque c'erano ancora personaggi fuori forse che bagarella era già arrestato e io mi hanno chiamato per il 41 bis questo ruotolo e io che ci fu una critica dopo dal ministero che io mi interessavo di questo perché ero un collaboratore e io dicevo che le persone che erano a 41 abbisti avevano non ragione era giustificabile quel discorso che avevano mandato a dire di uccidere a tutte le guardie che si trovavano alla senara perché noi sapevamo che c'erano delle guardie che facevano vedere delle lettere che per esempio che che avevano scritto le moglie e li stracciavano perché ti ha scritto tua moglie e la stracciava oppure ci dovevano dare la capetta con il minestrone e ci sputavano oppure quando andavano a passeggio i calci in culo cioè che c'era un certo mariano agate un personaggio famoso che aveva un sedere un pochettino grosso poverino l'aveva per tre volte perché ogni volta che usciva che non volevo uscire più andare a passeggio lo prendevano a calci in culo va bene cioè non avevano paura le guardie non avevano paura perché pensavano che allora guardi se lei si ricorda ci fu che il governo aveva aveva cercato veramente di mettere ordine e di vendicare perché oltre diciamo questi detenuti a stare male perché stavano male infatti qualcuno si è suicidato pure e hanno messo i pespi siciliani se si ricorda le guardie sono andate a faremo quindi ci fu un periodo che effettivamente lo stato ha voluto vendicare i suoi morti però dopo col passare del tempo non va è quindi io mi sono espresso palesamente che ero contro al 41 viste principalmente perché i bambini quando andavano a trovare il genitore diciamo trovavano il vetro e nemmeno i bambini potevano abbracciare il padre un bambino non è che comprendi il 41 però diciamo questi discorsi erano giustificati per l'insistenza che avevano i mafiosi a mandare delle notizie fuori perché il mafioso anche se in galera ha sempre il suo ruolo non è diciamo bene meno se è un capo e viene arrestato fino a quando è che è sempre capo salvo che non muore quindi il vizio dei mafiosi era mandare contatti fuori bigliettini altre cose e quindi si è ritenuto necessario questo discorso del 41 viste e credo che ancora è necessario perché ci può essere sempre la speranza che qualche mafioso grazie al 41 viste si può può collaborare noi noi speriamo sempre che che possa collaborare qualche politico soltanto soltanto se collabora qualche politico qualche politico l'Italia può incominciare a a respirare e a stare bene fin quando non ci sarà un politico a meno uno un politico che non si pentirà l'Italia andrà sempre così e mi ricordo tanti tanti anni fa quando c'era il PDR credo al governo uno di Villa Abate si è pentito era era un politico non importante ma era uno che lavorava al municipio che aveva fatto la testa da avvenendo a Provenzano per andare in Sbizzera per fare quell'operazione che dopo sono nati tanti polemiche con quel dottore che è morto manca eccetera eccetera per esempio logicamente se non c'è una reazione se non c'è una continuazione la mafia tornerà sempre diciamo anche se però è cellata e tranquilla e pacifica però il pericolo che possa esplodere come prima grazie ai pentiti se hanno fermato diciamo queste strade e tutto il resto perché se non era per i collaboratori le strade avrebbero continuati i politici non sarebbero mai stati scoperti anche se non li hanno condannati ne hanno condannati a qualcuno va bene ma non ne ma ci sarebbe ci sarebbe ben altro ben altro da fare speriamo speriamo che le cose vanno in bene le faccio le ultime due domande siamo in conclusione me lo racconta un momento divertente che si ricorda con sua moglie ma guardi la cosa divertente che eravamo felice quando a me nel 77 mi hanno mandato alla Sinara libero esatto però c'erano i mafiosi questi che ritenevano pericolosi e li mandavano alla Sinara a Calarreale insieme ai detenuti insomma c'era uno spazio per noi lì c'era c'era un padiglione per i calabrese e uno per i siciliani e mia moglie ha voluto venire mi ha portato che allora avevo tre bambini e là eravamo nell'isola felice perché perché ogni ogni 15 giorni ogni 8 giorni veniva la pilotina andavamo in terraferma a fare la spesa e dopo la eravamo tutti tutti il giorno belli felici contenti che si giocava i bambini piccolini non capivano non capivano niente dove erano e dopo mi hanno mandato un mandato di cattura e e il sogno finì là insomma quando bussava la polizia sua moglie cosa le diceva mi stantonava e mi diceva ma aprile che c'è la polizia non è che si scandalizzava pure ma anche perché guarda io mi ricordo la prima volta che ero io con mia moglie abitavamo a Borgovecchio la zona vicino a Porto e tutt'assieme bussano tutto tutto ancora non era non c'era la legge reale che sparavano quando uno scappava insomma io parlo negli anni 60 65 e quindi abitavamo diciamo al Borgovecchio sono tutti i casi per esempio piano terra primo piano 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 terra secondo piano insomma malasiena magazzini fino a che arrivano vicino al mare quindi io la polizia capisco che la polizia allora dal balcone mi arrampico c'era la grondaia e prendo il balcone grondaia e vado in un pezzo di muro che c'era diciamo che mi potevo arrampicare comunque tutta la notte tutta la polizia di Palermo tutta la polizia di Palermo aveva circondato il borgo ma io ci scappavo sempre perché appena io ero giovane insomma avevo 25 anni insomma era come abituato a a fare queste cose spedicolate e quando ha fatto giorno la polizia per vergogna se ne sono andati tutti esatto e quindi era abituata mia moglie come pure era abituata diciamo a vedermi quasi morto perché quando diciamo c'è stato il discorso che io e un certo michalizzi arriviamo al gambero rosso che era un ristorante di mondello il proprietario era alla cassa e esce della cassa ci viene a baciare due poliziotte stanno mangiando e mi riconosco ma quello è mutolo io avevo i capelli lunghi i baffi alla cinese insomma mi ero truccato un po' però quelli mi avevano conosciato questa noi attraverso un'antenna che arrivava quasi al primo piano questo ristorante era piano terra c'era un ufficio dopo c'era il primo piano tutti con gli specchi però a tempo d'estate c'era anche le terrazze che dalle terrazze c'era un un box non so come si chiama queste cose che uno della terrazza gli chiamava manda due bistecche e c'era il montacarrico che li portava quindi noi appena ce ne accorgiamo che ci sono i carabinieri i polizzotti cerchiamo di scappare ma ormai era il ristorante tutto chiuso non è c'erano altri io l'unica amicalisti lo prendono io trovo questa botola c'era una cosa di legno tolgo questa cosa di legno mi calo completamente quasi sopra la cucina con questa cosa sopra ogni tanto fu il babate mi telefona e mi racconti quella cosa del cameron rosso perché passò come come una leggenda lui dice comunque sono stati i polizzotti più di sei ore diciamo in questo complesso che era cioè non c'erano complessi accanto quindi io potevo volare esatto però più di sei ore non mi hanno trovato come guardavano hanno guardato pure nelle gambiette dei pesci va bene però là non mi guardavano perché guardavano del buco di sopra e vedevano che era sopra la cucina comunque io sono stato dopo quando sono andato due giorni completamente nel letto e così insomma questo in quel ristorante non l'hanno fatto più aprire ora di ripeto hanno aperto ora un altro ristorante non mi ricordo come il gabbiano completamente e ogni tanto c'è fulvio c'è fulvio abbate non so se lo conosce ogni tanto mi chiama gaspere raccontami il gabbiano perché sembra una favola perché una cosa isolata tutta perché allora che mi imputavano anche se ero innocente però erano loro convinto che aveva stato io un omicidio di un agente quindi erano accaniti mi volevano trovare insomma però è sono cose comiche che sono passate nella vita parte della vita gaspere il suo libro cavalli di razza dove lo possiamo acquistare guardi il cavallo di razza non lo so è e maria santa maria diciamo che allora io le chiedo io le chiedo una cosa la chiedo a lei lei la riferirà a maria a maria sotto i commenti quando finiremo la diretta mettete proprio dove è possibile i vostri contatti o se maria li vuole dare proprio mettendo un commento gli dica a maria metterò che un commento sotto col contatto di maria in modo tale che le persone direttamente possono contattarvi nel nel sito più opportuno e invece una cosa i suoi quadri quando lei dipinge i suoi quadri io ho visto un po di suoi quadri sono molto belli quando lei dipinge i suoi quadri in realtà che cosa pensa cosa dipinge dipinge il suo passato il suo presente il suo come si vede nel futuro qual è l'ispirazione che la porta a dipingere guardi l'ispirazione alcune è quello che mi che mi dà in quel momento la musica molto spesso è il passato che io mi ricordo infatti quando i miei figli avvoltendo che cosa hai c'è gli occhi rossi perché magari ricordo episodi brutti e quando io ricordo episodi belli faccio dei dei fiori e come ha detto salvatore bostellino dice alla mattina quando mi sveglio e vedo di chi nella mia stanza da letto quel mazzo di fiori che mi ha fatto mutolo dice non sono convinto che mutola e un'altra persona quindi sono momenti che la musica mi ispira a qualche cosa per esempio se lei ascolta la musica che fa parte del gradatore nelle tue mani di boccelli che incomincia diciamo il sogno aveva un sogno e fosse in realtà oppure il destino te lo crei tu con le tue mani giorno per giorno va bene insomma questi al momento come io mi trovo va bene allora faccio il paesaggio faccio la piovra faccio l'acqua faccio le casette che mi ricordano in borgo quando scappavo sempre insomma che devo dire insomma io ho dei ricordi belli di palermo lei pensa quando io ero piccolino mi ricordo che a baldese vicino a mondello no c'erano la coltivazione del cotone sai i film americani la c'era a palermo c'era il cotone dopo hanno tolto il cotone hanno fatto hanno messo i fiori dopo hanno messo attualmente sono tutti i villi perché dopo l'evoluzione insomma quindi io ho tante cose io non lo so dire io non è che ho fatto scuola e ci posso dire ho fatto l'accademia io ormai mi sono imparato uno mi ha imparato le prime cose un certo mondo insomma nel cacciare di sollicciano nell'ottanta tre insomma è però quello che sento insomma quello che sento in quel momento scrivo e tutti mi dicono però che i colori che io ho forse è la rabbia qualche cosa non lo so quello che lei oggi è arrabbiato ma io oggi non sono arrabbiato perché sto parlando con lei ed è un momento di gioia in cui posso sempre mandare quel messaggio nel dire ai giovani state attenti non vi fate coinvolgere diciamo dell'illusione dei soldi perché noi abbiamo due cose bellissime guardi due cose che non si pagano soldi li abbiamo gratis che ce l'ha dato il creatore il nostro signore la salute e la libertà non hanno prezzo al momento che uno entra in galera sa cosa vuol dire la libertà oppure quando uno è ammalato che non si può muovere compende cos'è la salute i soldi non valgono niente sono momenti che uno sì i soldi sono un male necessario perché a volte io vado al supermercato e magari ho difficoltà mi pieghi alla frutta mi pieghi a quello però i soldi insomma ci sono tante cose più belli delle soldi dei soldi è molto è diventato molto amico con salvatore borsellino sì sono molto amico perché l'ammiro l'ammiro perché per me è l'unico l'unica ma c'è pure giorgio buongiovanni che è di queste idee però io di di salvatore borsellino l'ammiro perché è l'unica persona che non crede sonvenzione dello stato ha capito che diciamo su suo fratello è l'amico di suo fratello sono morti anche anche per la politica anche per i poteri forti e lui e perché è lampante cioè il depistaggio che hanno fatto con scarandino è una cosa vergognosa ma è è più vergognoso diciamo il il circolo che c'era in quel periodo a palermo se lei se lei legge non so se lei lo sa se non tutti i giornalisti sono ma in quel periodo che muore falcone borsellino guardi c'è contrada che uno dei uno dei capi di dei servizi sepietti a palermo la barbera che il capo della polizia che nel libro paga di alcuni mafiosi gli ammanco che capo del tribunale di palermo va bene in collusione con il potere forte insomma e tenebra che il capo del tribunale di cartanistetta un personaggio importante dopo non parliamo di signorino di contrato insomma questi poveri uomini sono circondati da questi mascazzoni va bene che purtroppo la storia la storia li dovrebbe veramente condannare per sempre infatti qualcuno è stato arrestato condannato come contrada anche se gli avvocati diciamo che sono i i più pericolosi gli avvocati ai gli avvocati che sono a parlamento sono i più pericolosi perché fanno le leggi studiano le leggi hanno le amicizie contrada è stato condannato esatto però è stato condannato cioè io quando ho chiamato a contrada l'ho chiamato perché siamo nel 1975 76 è stato condannato dopo per l'associazione esterna ma l'associazione esterna viene messa nell'ottantanove novanta nel novantuno quindi non poteva essere condannato per associazione esterna poteva essere condannato per atto tradimento per traffico per altre cose ma non per la storia quindi è stato uno sbaglio della magistratura esatto la corte europea giustamente dice questa condanna non poteva essere per questo reato specifico ma non è che è andato a sorte contrada o come tutti gli altri per esempio carnevale che era un uomo importantissimo esatto insomma è una cosa anche vergognosa questi questi due santi che sono morti falcone e borsellino sa come li giudicava e come li additava i due di oscuri va bene che il governo il governo dovrebbe fare luce su queste cose semplicemente per queste cose questi due uomini prima di di morire hanno sofferto le pene le pene dell'inferno e io ecco perché ammiro a borsellino ammiro a borsellino perché è una persona che il cuore ci bruca a dire cioè io voglio giustizia gaspare mi dica siamo in chiusura io la ringrazio per questa chiacchierata e sono certo che ce ne saranno altre ne faremo sicuramente un'altra questo lo dico di certo e probabilmente la faremo anche vedendoci in di persona io le auguro personalmente di essere felice felice non per dire una cosa ma proprio di stare bene di continuare la sua vita vivendola bene secondo me poi la vita bisogna viverla bene io sono d'accordo con tutto tranne che non mi piace quando lei dice che deve vivere per soffrire io vorrei che lei vivesse bene a prescindere perché poi alla fine noi non abbiamo né il non tocca a noi giudicare almeno se ci riteniamo dei delle delle brave persone non è compito nostro giudicare io sicuramente non sono non sono d'accordo con quello che ha fatto tuttavia io penso che ogni momento della vita si cambia e quindi io parlo oggi con con gaspare mutolo di oggi che è una persona eh direi diversa quindi io le auguro però di veramente ve lo dico con con affetto di essere sereno di continuare a vivere senza pensare di dover soffrire ma di essere sereno dopodiché io dico a tutti quelli che ci hanno ascoltato che qui io vi link eh linkeremo sia il contatto facebook e gaspare mutolo il pittore lo dico e lo poi lo troverete anche nel link lì potete contattare maria santamaria che è la eh la persona che si occupa di dei quadri dei libri di tutte le opere d'arte che fa gaspare io faccio un piccolo promo al libro ma non perché mi non perché ne abbia chi sa che ma perché credo che in realtà acquistare il libro di gaspare mutolo può essere importante personalmente penso che quando eh le persone fanno cose bellissime o bruttissime comunque se noi vogliamo avere esperienza di quella che è la vita dobbiamo essere in grado di ascoltarle e poi asco perché io poi ripeto secondo me è molto facile dare giudizi dall'esterno poi dall'interno la vita è tutto in un altro modo e ci tengo a dire una cosa io capisco anche quando lei parla con nostalgia tra virgolette di un tempo andato io lo capisco perché semplicemente chi deve essere politicamente corretto deve dire non lo capisco in realtà è comprensibile quando si guarda indietro poi abbiamo tutti nostalgia a prescindere anche perché poi il tempo fa sì che il passato si è sempre meno brutto di quello che era quindi io le auguro dico alle persone che ci seguono di acquistare il suo libro proprio per una crescita personale poi magari se non vi piace lo buttate via però leggetelo perché secondo me è importante e i quadri di gaspare che dire sono pezzi della della sua storia caspare concluda lei dicendoci qualcosa di positivo guardi di positivo potrei dire tante cose per esempio ieri sera mi trovavo a bologna ora sono in un altro posto e in una mostra di di pittura che di arte pittore e dopo abbiamo pranzato qualche dodici persone e e sempre vogliono sentire la mia storia e ci sono persone che dopo che io parlo insomma si vogliono fare le foto mi dicono ma lei mi dicono tante cose belle che magari a me mi emoziono soltanto a pensarle a dirle però effettivamente ci sono queste persone persone io io le voglio dire soltanto una cosa per farle capire qual è il motivo della mia pittura io anche dipingo dal 1983 84 c'è un libro il bolafi datato 1986 va bene con i prezzi io dal 1986 non ho aumentato mai i prezzi e maria santamaria che la mia collaboratrice ha scritto il libro insomma e fa tante cose belle risponde a tutti sa che io fin quando muoio va bene i prezzi dei quadri non debbono essere alzati anche se ci sono commercianti di quadri che si comprano i quadri da me e li rivendono a un prezzo maggiore ma a me non mi interessa niente perché io io dipingo perché mi sento come come una missione che devo fare cioè com'è che io io sono convinto che la penitenza mia è soffrire va bene lei pensa che minimo i quadri da quando io incominciare ora sono aumentati di 10 volte le teli colori però i prezzi sono sempre quelli e io sono felice quando una persona mi scrive vuole un quadro anche per esempio se non ha tutti i soldi ma che costa poco e non ha quei pochi io ci dico a maria santamaria vero quanto ha dagli insomma tante persone mi fanno piangere a volte che non hanno possibilità e ben dicono magari ci manda un autografo in un pezzo di cartico non disegnino e allora prendo un quadrettino perché anche io vivo ormai di queste cose però glielo mando non lascia nessuno io scontento che se vuole un quadro qualche cosa io io rispondiamo a tutti e le posso dire che mi danno la forza ancora di continuare perché ho 84 anni quasi esatto di superare tutto tutto questo mio cammino che è doloroso io sono convinto le dicono io invece sono convinto che è la penitenza che devo scontare io è sbagliato è sbagliato vivere così mi creda io sono più giovane ma è sbagliato questo modo dire gaspare gaspare le faccio una confidenza e la faccio e qui siamo in chiusura se no voi fra l'altro so che dovete fare strada le faccio una confidenza mia personale la prima volta che io ho fatto la prima intervista con lei io in qualche modo le ho detto quello che pensavo e lo penso tuttora io penso tuttora che fare male comunque c'è un essere portati nel fare male solo che la prima volta che io l'ho fatta in realtà io e glielo dico con grande onestà lei non mi piaceva tanto perché dicevo questa è una persona non c'è o meglio non ci credevo non ci credevo al fatto che lei fosse cambiato dicevo del non neanche ragionandolo nel mio interno lei mi capisce stavano dall'interno uno dice diceva ok e io questo potrei non dirglielo e lei non avrebbe mai saputo quindi proprio siamo schietti e onesti oggi quando io da qualche giorno so da qualche settimana so che avremmo ci saremmo rivisti ho detto a me stesso ho detto però oggi prova a non pensare e a vedere veramente quello che è ebbene io oggi gaspare interiormente credo assolutamente che lei sia una persona diversa e glielo dico perché non perché lo devo dire a lei perché io dentro di me ho vissuto proprio questa cosa oggi rispetto all'altra volta questo sapete perché lo dico anche a chi ci ascolta perché alla fine poi tutti quanti cambiamo tutti pensiamo diciamo qualcosa di buono e poi magari ne pensiamo qualcosa di diverso il problema qual è riuscire a capire che si cambia e quindi come io mi sono accorto che l'altra volta io me ne sono accorto subito dopo perché ho detto tra di me ho detto io non sono stato onesto ma io lo dico tranquillamente ma non onesto con lei proprio con me stesso invece oggi le dico con grande onestà che io oggi ho credo che lei sia una persona assolutamente diversa con tutti gli errori che ha fatto e che non glieli perdonerò cioè non sono perdonabili però io dico che oggi dal profondo poi non dico del mio cuore ma del mio cervello perché io penso che poi il cervello le dico dell'è una persona diversa io lo sento come sentimento reale quindi io e io la ringrazio di questo e ma questi sentimenti che le nutre io ne ho avuto la conferma perché diciamo a me persone che per due volte che ci siamo sentiti al telefono non abbiamo potuto parlare perché abbiamo pianto ma io ho avuto dopo la soddisfazione di incontrarli e queste persone mi hanno abbracciato mi hanno baciato mi hanno perdonato anche se io le ho recato tanto male va bene e quindi io spero sempre di trovare e li trovo piano piano a persone che mi scrivono e mi dicono delle cose belle che in qualche modo addolciscono la mia sofferenza lei deve anche avere pazienza perché magari anche perché dall'altra parte è un po difficile quindi bisogna io la pazienza io la pazienza ce l'ho perché il tempo ce l'ho tanto sono giovane insomma quindi ha voglia di tempo che c'è per lei comunque io la ringrazio sì signor Monaco di lei è stato gentilissimo forse io non merito queste parole belle che lei vi dice no 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 perché se no non gliela avrei detto perché deve sapere che io sono una persona talmente eh onesta in questo che se non se non non l'avessi pensato non gliela avrei detto proprio la ringrazio ringrazio a tutte quelle persone che magari hanno sempre quel senso di pietà perché come dico io odiare è facile odiare è molto facile perdonare avere quel senso di di perdono verso le persone che hanno sbagliato ma logicamente io a queste persone che trovano riservo a perdonare le consiglio di leggersi anche il libro di palamara vabbè quello che dice mi creda gaspere le persone che hanno difficoltà a perdonare gli dia il tempo noi dobbiamo dare una cosa alle per vedere io quella cosa che le ho detto ora io non l'ho meditata in due minuti io l'ho meditata con un po di tempo che poi ci vuole del tempo mi mi creda il tempo cambia a tutti che ha cambiato lei cambierà me e lei cambierà ancora io cambierò ancora tutti col tempo cambiamo qualcuno migliora qualcuno peggiora ma sicuramente cambiamo tutti quindi io le consiglio invece dia il tempo alle persone io di questo mio di io di questo mio cambiamento devo ringraziare molto a Giorgio Bongiovanni a Salvatore Borsellino perché mi hanno aiutato tanto 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 psicologicamente va bene quindi quindi questo per me è una cosa che io ma è tante persone perché ogni persona che a me mi scrive e mi dà quella parola di conforto mi dà nello stesso tempo quella speranza che io devo continuare a fare interviste a parlare perché diciamo il mio compito ormai è questo va bene signor Monaco io sono a sua disposizione io spero che il mio libro sicuramente ci piaccherà perché ne sono Maria Santa Maria l'ha scritto con il cuore va bene e ci sono le uniche persone della mia vita metteremo qui adesso direi daremo tutti i contatti io la ringrazio Gaspari mi chiami Giorgio io ringrazio a lei ci auguro una buona serata a lei a tutti i suoi amici arrivederci a tutti quelli che ci hanno seguito e grazie 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 a voi arrivederci